Beh, Federico Picchianti qua, ed oggi parliamo di tre segni che dovresti lasciare a un uomo. Ma quali sono questi segni e di cosa sto parlando? Questi tre segni sono i segni che ti fanno capire che sarebbe il caso di chiudere una relazione, di chiudere quello che c'è tra te e questa persona. Ovviamente le cose che sto per dirti dovrebbero darti dei segnali, non devono essere né un materiale per convincerti al 100%, né un materiale per distrarti da quella che è la realtà. Ti dovrebbero fornire un'argomentazione abbastanza chiara, o comunque una soluzione chiara alla quale poi dovresti arrivare tu, non dovresti arrivarci con il mio aiuto definitivo, se no ovviamente con alcuni miei suggerimenti per portarti al punto B, eventualmente quello di volerlo lasciare. Prima di andare avanti e vedere questi segni che devi lasciarlo e dovresti lasciarlo, ti ricordo di iscriverti al canale, in descrizione trovi il link per notare una consulenza gratuita conoscitiva con me, il numero per farmi domande di sms totalmente gratuite e ovviamente anche il link per trovare i miei libri come Sotterra l'ex e 101 risposte a 101 dilemmi femminili che trovi su Amazon, se scrivi il mio nome e cognome Federico Picchianti su Amazon e ancora trovi anche il link per accedere ai servizi riservati esclusivi quali il Patreon, dove ci sono dei video riservati e ci sono delle risposte urgenti entro 72 ore che io ti vengo a fornire se tu ne hai bisogno. Quali sono questi tre segni? Allora è molto semplice, i tre segni che devi lasciarlo sono in primis, quindi partiamo dal primo, è quando vivete sempre nel passato e in quello di cui avete discusso il passato. Questo che vuol dire? Vuol dire che tu non riesci a superare, tu e lui non riuscite a superare, chiaramente quelli che sono i problemi del passato. Riportare a galla i problemi del passato implica che questi non siano stati risolti ma siano stati soltanto per l'appunto sotterrati o semplicemente messi sotto al tappeto, atteggiamento poco funzionale che porta a pochi risultati. Dunque non è quello che vorresti fare e non è quello che dovresti fare. Piuttosto dovresti cercare di risolvere il problema almeno in un lasso temporale che non vada poi da più di una settimana dalla discussione, perché quindi 7 giorni, anche 14 giorni, se poi va oltre il problema viene sotterrato e si applicano atteggiamenti o comportamenti similpassivo-aggressivi. Quindi la persona piuttosto che risolvere e parlare con te cercherà di, insomma, ti farà vedere che magari farà alcune cose per darti fastidio, dei disperti, magari farà del mutismo selettivo e quindi non ti darà delle risposte su alcune cose, si ridurrà il livello di attenzioni sentimentali nei tuoi confronti, eccetera. Ecco, fare questa cosa porta la relazione alla rovina. Ecco perché dovresti sempre risolvere quello che c'è stato nel passato subito e il prima possibile, o almeno risolvere quelle che sono state le discussioni, o almeno arrivare a un agreement insieme, a un accordo insieme. Il secondo è quando la relazione invece ti dà più dolore che gioia. Cerca di capire se all'interno della relazione stai provando più gioia o più dolore, perché se stai soffrendo molto, forse non è quello che dovresti fare, ovvero restare all'interno di quella relazione. Una relazione che ti porta più dolore che gioia chiaramente non è funzionale. E il terzo segno è quando si aspetta che tu cambi o viceversa. Ah, io voglio che tu faccia questo, io voglio che tu faccia quell'altro. Dunque, alla luce di queste cose e di quello che ti ho detto, bisognerebbe comprendere però una cosa principale, la quarta cosa. La quarta cosa è capire che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Quindi, dicendo di queste cose, dovresti capire, tra l'altro comunque realizzare, che prima di tutto non puoi forzare molto la relazione, non puoi forzare molto il rapporto che hai con le altre persone, ma puoi invece cercare di risolverlo per la linea massima, nel senso fin dove puoi. Cercare di risolvere il problema sul pezzo, sul momento, sicuramente è meglio che cercare invece di lasciare il problema a galla o lasciare che il problema rimanga lì sotto il tappeto per poi ritirarlo fuori mentre stiamo litigando. Cioè, se io mi aspetto che tu cambi, come nel terzo punto, sicuramente non ti porto a niente di buono. Cioè, vuol dire, io rimango così e tu invece devi cambiare per me. Se proprio dovete cambiare o fare dei miglioramenti, teoricamente li dovreste fare insieme, dove l'uno o l'altro, anche se l'altro non ha poi così torto in alcune situazioni, dovrebbe, secondo me, farsi avanti e magari dire, ok, io assumersi anche una parte minima delle sue colpe, e in quel caso dire, guarda, io semplicemente mi assumo questa responsabilità, capisco di aver fatto questo, dunque preferisco venirti avanti, venirti incontro e dirti che in parte voglio applicare anche io dei piccoli miglioramenti, delle piccole migliorie. Ecco, questo è quello che ti consente di avere un buon ritorno, quello che ti può consentire di riuscire poi alla fine dei conti a fare quell'upgrade al prossimo step all'interno della tua relazione. Il secondo, tra l'altro, è anche vitale, perché quando tu invece senti più dolore che gioia, è chiaro che poi la relazione non va molto avanti, non succede niente, non si sviluppa niente, non si arriva a nulla, perché avere più dolore che gioia implica che tu vivi all'interno di questa relazione con molta ansia, vivi con fastidio, con poco divertimento, con poco piacere, insomma, te la stai vivendo malissimo, se te la stai vivendo malissimo, dove vorresti arrivare, che cosa vorresti fare? E allora dovresti fare il ritorno allo step 1 e andare avanti allo step 1 e cercare quindi di risolvere i problemi del passato. Vedi che queste tre cose, questi tre segni che ti ho dato e ti ho suggerito, in realtà, sono molto legati fra loro, sono delle cose fondamentali che dovresti fare e privilegiare fin da subito. Se non vai a risolvere queste cose, sappi che la tua relazione mirerà sempre di più al doom, quindi alla condanna. E ti ricordo che se queste cose non le fai, quindi mettiamo caso che tu non te ne frega niente, andranno ad addizionarsi. Cioè queste cose si sommeranno, si addizioneranno e ti ritroverai che avrai molto più di quello con cui sei iniziato. Cioè avrai molti più problemi di quel piccolo problema che hai omesso. Perché omettere quel piccolo problema ti porterà a degli altri atteggiamenti e comportamenti che creeranno altri problemi a causa del primo problema e quindi tutti questi problemi poi si sommeranno, andranno uno davanti all'altro fino a diventare una montagna di problemi. Ecco perché ti suggerisco di pensarci la prossima volta e pensi di non voler discutere, non voler parlare. No, i piatti devi lavare sul pezzo, devi lavare i piatti in quel momento, devi discutere in quel momento. Dunque, io ti ringrazio per essere qua, iscriviti al canale, io sono Federico Picchianti, mi trovi qui, mi trovi su tutti i social, Instagram, TikTok, LinkedIn ovunque, YouTube, iscriviti qui al canale, in descrizione trovi il link per prenotare una consulenza gratuita e conoscitiva con me, il libro, ovviamente che puoi trovare su Amazon insieme a tanti altri, 101 risposte a 101 di temi femminili, lo trovi se scrivi il mio nome e cognome su Amazon, oppure vai il link qui sotto, e c'è anche il numero di telefono al quale puoi fare domande gratis, solo via SMS, e anche il link per accedere al Patreon, dove ci sono i video riservati e le consulenze di emergenza sempre al Patreon. Trovi tutto nel link qui sotto, un abbraccio al prossimo.